Radio Viva FM con il patrocinio della provincia di Brescia presenta Viva Beach Party Viva Beach Party Sabato 22 agosto, Spiaggia degli Ulivi, Toscolano Maderno Viva Beach Party I DJ di Viva FM e le ragazze tour ti aspettano per la notte in movimento In spiaggia, sul lago di Garda Viva Beach Party Sabato 22 agosto, Spiaggia degli Ulivi, Toscolano Maderno, Brescia Viva Beach Party con Viva FM La spiaggia in movimento